Enrico, tu sei stato uno dei giocatori più positivi in questa stagione, non so se sei andato anche al di là delle tue aspettative, oltre che delle nostre, dicci un po'. Ovviamente quando magari arrivi per la prima volta in una squadra nuova, più o meno, non dico che sai cosa ti aspetti perché assolutamente no, però più o meno sai per quello che potresti dare fino a lì, insomma. E quindi all'inizio della stagione sicuramente non avrei pensato di fare un campionato così, insomma, come dite anche voi, positivo, no? Sì, sì. Quello per cui sono molto contento è una continuità che mi è stata anche data, quindi ringrazio, però è la cosa che mi fa più piacere perché, come si dice, più hai continuità e meglio è, insomma, avere una partita sì e una partita no non ti aiuta, no? Quindi io penso di essere cresciuto molto quest'anno, soprattutto in una piazza come ad Arezzo, insomma, non una piazza a caso ultima del girone, ecco. 27 presenze e 4 gol, questa cosa della continuità ricordo me l'avevi detta anche in un'altra intervista dopo, in un post partita e quindi è segno che è veramente così. Tu hai fatto le giovanili a Porto Gruaro, mi dici com'era il Bearzotti ragazzino, insomma, hai giocato sempre in questo ruolo o ci sei arrivato piano piano? No, ho giocato, cioè, sono tra virgolette nato come seconda punta, poi per le caratteristiche mi hanno spostato come esterno alto di attacco e poi adattato a quarta di centro del campo, insomma, in diversi modi. Questo è il tuo gol, questo è il primo in assoluto tuo e dell'Arezzo in campionato perché fu il gol dell'1-0 contro il Como, sì, una bellissima azione con la tua rifinitura, Enrico. La Serie D a Pordenone, quanto ti ha insegnato? Tanto, secondo me moltissimo perché avevo 16 anni e dalla seconda di campionato le ho giocate tutte, quindi mi ha fatto crescere tantissimo perché comunque la prima esperienza con i grandi, tu che ha 16 anni sei quasi un ragazzino, no? E quindi quello mi ha fatto crescere tantissimo. Poi un campionato dove abbiamo vinto, cioè, hai giocato tutte le partite, sei riuscito anche a vincere il campionato, è stato... Questa è una cosa molto importante per molti giovani che si rifiutano ad andare a fare la Serie D e fanno il campionato primavera e sbagliano tantissimo perché lui l'ha fatto anche quello, infatti. L'anno dopo poi ha fatto la primavera a Verona, sì, però ha imparato molto, l'ha detto lui, molto di più a Pordenone che non a fare la primavera. Eh, la primavera con il Verona com'è andata Enrico? No, ehm... Ho fatto anche il Viareggio poi con il Verona. Ho fatto la finale di Viareggio, quindi un altro anno ricco di soddisfazioni, quello sicuramente, però c'è da sottolineare la differenza tra appunto la Serie D e la primavera. Perché passare da quando sei tu il ragazzino che giochi con i grandi a giocare con gente della tua età è tanto diverso, molto. E tra l'altro mi ricordo di aver fatto anche un po' di difficoltà a ritrovarmi perché comunque non è stato poi facilissimo, insomma, no? Però tutto ti insegna anche, anzi, mi sono trovato benissimo, ho fatto un bel campionato, quindi anche l'anno della primavera è stato molto utile. Tu sei ancora di proprietà del Verona, come abbiamo ricordato prima, poi hai fatto l'anno a Padova in Serie C e infatti se negli ottavi poi dovessi esserci la sfida con il Padova tu saresti uno degli ex. Insomma, ecco quello che gradino è stato per la tua crescita. È comunque la prima esperienza tra i professionisti, quindi sicuramente vuol dire tanto. All'inizio trovavo abbastanza, insomma, continuità anche per essere appunto la prima esperienza. e successivamente il girone di ritorno, anche col cambio di allenatore, ho trovato un po' meno spazio, però è stato comunque un anno di passaggio, diciamo, no? E forse anche il fatto di giocarsi un po', un po' no, mi ha fatto crescere, diciamo, meno rispetto a quest'anno, ecco. In cui sei cresciuto di più. Un tuo giocatore modello, qual è Enrico? C'è uno, insomma, al quale ti ispiri? Vabbè, cioè il mio idolo, insomma, è del Piero, però ovviamente le caratteristiche sono altre. Poi anche Henri è stato per me, cioè, insomma, per me, dico che mi ha ispirato tanto, poi ci sono diversi giocatori. Io sono comunque giovane, quindi ti capita di riscontrarti con giocatori di adesso, no? Quindi sì. Qui abbiamo rivisto anche il gol di Piacenza, che è stato uno dei più belli tra quelli che hai fatto. Ti chiedo, perché ce l'ha chiesto un telespettatore, adesso vado a ritrovare la mail, se preferisci giocare a destra o a sinistra sulla corsia esterna? Allora, è una domanda difficile, perché per il piede inizialmente direi a sinistra, quello sì, perché comunque ti viene più facile rientrare, tirare, dribbling soprattutto, perché è diverso puntare a destra che a sinistra. Quello sicuramente. Però, per le caratteristiche che ho, secondo me, è anche per il cross, poi dipende anche dalla squadra dove sei, ovviamente. Ovviamente, avendo giocatori come Polidori, Moscardelli, eccetera, che comunque, sì, appunto, più metti cross per loro, secondo me, meglio è. Quindi giocare a destra mi facilita da questo punto di vista, quello sì. Diciamo che non è che c'è una sostanziale differenza tra le due, però cambia in certi piccoli particolari. Eh sì, alcuni dettagli, sì. Abbiamo, guarda, 30 secondi, Sergio, mi dai un parere su Berzotti, proprio dal punto di vista tecnico. Ma, io mi veniva in mente un giocatore che è stato ad Arezzo, aveva delle caratteristiche più difensive rispetto a lui, però me lo ricorda sia come struttura che come corsa, che come anche capacità di arrivare al cross. E che era Antonini, quindi il paragone più modesto rispetto a quello che facevi a te di Del Piero. Certo, assolutamente. Però, insomma, è stato un ottimo giocatore, ha avuto una carriera che augura anche a lui. Insomma, non è stato male. Lui è più punta, però, di Antonini. Sì, appunto, ha delle caratteristiche diverse. A me ricorda anche Tombolato, non ha altre caratteristiche. Cioè, è un giocatore veneto come te che aveva un gran passo. Sì, Roberto, tu hai un grande passo. E hai un ottimo destro. Quindi penso che hai delle caratteristiche per fare una bella carriera. Hai trovato un sacco di estimatori, Enrico. Innanzitutto, per Enrico, una domanda mi è rimasta in sospeso che riguarda la tua carriera universitaria. Perché tu stai studiando, giusto? E mi hanno detto che hai dato un esame stamattina. Possibile? Sì, ho dato un esame stamattina. Io quando l'ho saputo ho detto che non è possibile stamattina. Sabato ho giocato, c'era la domenica di mezzo. Non lo so. Sì, ho fatto... Che facoltà fai? Cienze motorie. Sì. E appunto sì, stamattina ho dato l'esame. Che esame hai dato? Biologia. Biologia. Dice anche il voto, ormai. 28. 28. Poi, complimenti. Complimenti. Riesci a conciliare bene tutte e due le cose? Sì, sai, tanti me lo chiedono, no? Soprattutto dicono, ma Dio buono, ecco la carriera che fai. Però, se vai a pensare, abbiamo diverso tempo noi giocatori. Cioè, paragoni noi con un lavoratore che si sveglia alle otto, insomma. No, si sveglia, va a lavorare alle otto. Lavora molte più ore di noi, sicuramente ha meno tempo per studiare. Grazie. Grazie.